ciao a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti al tg notte allora oggi pomeriggio c'è stata questa news che ha rimbalzato un po dappertutto tutte le testate ne hanno parlato perché perché a metterla in piazza è stata business f1 cioè quella rivista molto autorevole riconducibile a bernie eccleston che tempo addietro ad esempio non so se ricordate durante questo inverno aveva pubblicato la notizia dell'indagine della fia ai danni di toto wolf e signora quindi anche quella volta lì erano come dire stati presi molto in considerazione poi di fatti la cosa vera fu comunque parleremo di questo e anche di altro perché non c'è solo quello ho avuto per esempio una bella discussione al telefono con un ingegnere che mi ha spiegato alcune cose molto interessanti riguardanti una vettura dei prossimi anni bene adesso sigla con la musica di andrea achilli e poi passiamo alla puntata di questa notte eccoci qua dunque di che cosa si tratta? niente business f1 ha detto che adrian newway ha già firmato che il compenso è molto importante superi 100 milioni le stagioni sono 2025 26 e 27 quindi tre stagioni e cosa fatta quindi arriverà in ferrari e tutto questo è stato fatto per mezzo di eddy jordan ora che cosa come dire possiamo dire in merito a questa comunicazione io continuo a dire semplicemente ciò che ho detto già da tempo aspettiamo 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 nel senso che allora di adrian newway e su adrian newway ci siamo già espressi adesso di tanto in tanto salta fuori questa notizia oggi ha fatto forse un po più rumore del solito perché appunto la testata è molto molto autorevole però io sono sicuro che la comunicazione arriverà in un momento ben preciso quando magari servirà dare una comunicazione per carità in un senso piuttosto che in un altro però fino ad allora perlomeno io nicola castiglione qui a racing time che sono tutto tranne che una testata giornalistica uno youtuber ragazzi rassegnatevi non mi sento uno youtuber io sono uno che si mette qua mi piace fare quattro chiacchiere con voi parlando di motosport e questo faccio quindi io direi per carità sono contento la notizia è buona la fonte autorevole continua ad alimentare quelle che sono le speranze un po di tutti però aspettiamo che questa notizia esca e magari succederà in un contesto particolare vedremo vedremo che cosa verrà fuori io invece per esempio mi voglio dedicare un'altra cosa questa qui molto interessante e anche abbastanza tecnica oggi ho parlato con un ingegnere uno che ogni tanto scrive pure i suoi commenti sul canale che lavora in ambito f1 giusto per richiamare la testata di poco fa e niente lui mi spiegava una cosa hai sentito mi fa nicola e quando i piloti dicono sarà dura guidare queste monoposto perché all'inizio saranno veramente lente allora lui mi ha dato un dato veramente preoccupante e cioè a livello di tempi sul giro le monoposto del della formula 1 del 2026 saranno dalle simulazioni che hanno in mano in questo momento più lente di una formula 2 di adesso ma come più lente di una formula 2 di adesso allora mettiamo il caso che da qui a un anno non riusciranno a essere più veloci noi pubblico che cosa faremo assisteremo a delle gare dove praticamente la categoria regina va più piano di quella di contorno cioè della formula destrativa che in teoria ma solo in teoria ragazzi perché i risultati li stiamo vedendo dovrebbe portare i piloti poi in formula 1 ma questa è una cosa veramente preoccupante e se i team non riusciranno a sbrogliare questa matassa io mi aspetto solo che prendano la f2 con una come dire rivoluzione regolamentare è giustificata poi non lo so dall'ambiente da quello da quell'altro e la rallentino un po' per farla andare un po' più piano della futura formula 1 questa è una cosa davvero un po' sconcertante poi guardate qui il muso dell'alpine cioè vi rendete conto allora questa è la struttura deformabile quella che garantisce l'assorbimento in ca di energia negativa in caso di impatto e che deve superare il crash test o guardate qui invece il naso che sorregge anche le ali praticamente una cover cioè questa questa roba qui è potremmo dire unica nel suo genere perché io non credo che ci siano altri team che possano smontare il muso anteriore in questo modo cioè resta la struttura deformabile e qui è tutta una cover in carbonio che sorregge le ali che pesantissime non sono affatto ecco questa era una cosa che prima di vedere onestamente questa foto non pensavo potesse esistere e invece è così il muso di qua e qui la cover un po' come quella che c'è nei braccetti delle sospensioni anteriori posteriori e via discorrendo non l'avrei mai ma dico mai mai pensato poi ho avuto allora per quel che riguarda il caso emilton no facciamolo vedere un attimino di questi giorni ho avuto come dire anche qui una chattata diciamo che io ho esternato quello che era un mio pensiero che deriva anche dalla mia esperienza in materia io ricordo ai nuovissimi sono un istruttore di pilotaggio sono un pilota o perlomeno lo sono stato ho corso per tanti 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 anni in varie categorie monoposto ruote coperte eccetera eccetera anche con discreti risultati e le mie gare me ne sono vinte oggi parlando con mattia russo mi diceva io a luglio vengo da te e finalmente potremo fare questo video sulla tua carriera assolutamente sì e niente in poche parole ho esternato questo mio pensiero magari come dire rafforzato dal fatto che se emilton denuncia che le pressioni degli pneumatici non erano ottimali in q3 in qualifica quella decisiva erano due tre gradi sotto e sappiamo quanto è delicata questa cosa e dice dobbiamo lavorare con molta attenzione sulle termocoperte e non arriva nessun tipo di smentita da parte di mercedes allora tu fai due più due ebbene un amico diciamo così che tra l'altro ringrazio facciamo un conoscente molto vicino all'ambiente mercedes mi ha detto che emilton inizia ad avere più di un malumore e inizia a guidare non troppo felice ecco tutto qua e questo in un momento in cui la mercedes sembri aver fatto qualche piccolo progresso perché ci vado cauto perché voglio aspettare barcellona che è una pista tradizionale dove si spera si trovino delle condizioni meteo normali e che quindi non è lo stop and go del canada con delle condizioni di pista e di meteo assolutamente pazze bene lì si potrà valutare se effettivamente la mercedes è tornata a vita oppure no è certo che se dovesse succedere un emilton cioè potrebbe dire la sua voglio vedere come si evolverà dopo questa lamentela a mezza bocca di emilton resa pubblica sia a monte carlo che qui ma anche prima aveva detto qualcosina come si evolverà questa situazione in casa mercedes poi vi voglio far vedere una cosa guardate quanto è bello il trofeo di le man quest'anno oddio è sempre stupendo io ho avuto anche la fortuna di vederlo dal vivo di trovarmi davanti ed è qualcosa di imponente ebbene quest'anno sarà esattamente così mi auguro che se lo vadano ad aggiudicare o un team a caso colorato in rosso o al massimo giallo e basta non ammettiamo altri colori oggi è partita e ringrazio per la segnalazione edoardo peli di tutto il modo sport e il suo amico emanuele la mille miglia a brescia vi faccio vedere alcune delle foto che mi ha inviato sia emanuele che leonardo ebbene ci tenevo a condividerle con voi e infine angolo della storia allora nel canale nel nostro secondo canale ci sono degli auguri molto molto particolari con un video che mette un po di nostalgia a questo signor a cuore qua parlo di jean lesi che oggi compie 60 anni anzi oggi ieri perché è l'una e mezza ragazzi ieri ha compiuto 60 anni e quindi niente gli facciamo gli auguri gli abbiamo fatti di là con un video dedicato ma auguri buon compleanno anche altre volte campione nel mondo jackie stewart che non è stato solo pilota in formula 1 ma anche fondatore della stewart gp dove correva ad esempio rubens barrichello e qui vi faccio un quiz ma voi lo sapete la stewart di allora oggi quale scuderia è come si è trasformata vediamo chi lo sa scrivetelo nei commenti e a proposito dei commenti andiamo a guardare quelli in proposition di oggi giovanni chiarillo poi andrea giusso scusatemi poi andrea zappalatte chiua poi attuazioni fantastiche lorenzo giammarini e andrea picchirri andrea picchirri che tra l'altro è l'autore di questi splendidi lavori questi sono dei sottobicchieri ma ha fatto veramente tante tante robe se siete interessati mandatemi un email vi girerò il suo contatto a proposito te chiua allora tu mi hai fatto una domanda la risposta è la ecco bene 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 andiamo avanti e leggiamo i commenti più di tendenza allora matteo perché inizio al basso all'alto quelli più di tendenza ms gab poi dino calzolari tra l'altro lo ringrazio un ingegnere e ha rafforzato quello che ho spiegato io nel video di oggi poi dino ancora enrico napoleoni e matteo macchioni ecco tutto tutto qui finito il video di questa notte c'era un commento veramente bello oggi l'ho ricercato poco fa ma non sono riuscito a trovarlo che diceva devo scriverlo devo metterlo per iscritto una cosa del genere questo canale crea dipendenza allora mi scuso con chi l'ha scritto perché non ricordo il nome rifatti sentire devo dire una cosa uno dei commenti più gratificanti che io abbia mai ricevuto bene ragazzi mi invito a iscrivervi al canale questo è il nostro secondo canale poi lasciate un like un commento il nostro secondo canale si chiama yellowskid oppure selezione tv2 vi mando un bacio attivate tutte le campanelline in questo mondo ci vediamo domani buonanotte vi mando un bacio attivate ciao ciao